Nuovi cantieri in arrivo a Cremona in via Postumia, dove è stato avviato il percorso della zona da destinare alla trasformazione urbanistica in merito a processi di riorganizzazione urbana. Si tratta della porzione di terreno di fronte al distributore e che copre un'area rettangolare di circa 10.000 metri quadrati. Ci sono delle zone, delle abitazioni che sono comunque da affittare o da ristrutturare, quindi non vedo la necessità di fare questo nuovo lotto, di consumare ancora del suolo a Cremona che secondo me non ce n'è bisogno. In città però non mancano case vuote o da recuperare. Vediamo che nelle comuni di Cremona, sia in centro sia in periferia, ci sono questi cartelli esposti nelle varie abitazioni e palazzi che appunto affittano i locali. Non vedo la necessità di costruire nuove abitazioni che comunque al momento secondo me non servono a Cremona. Si tratta di un intervento edilizio che parte da lontano, dal 2015. Si potevano cambiare nel PGT, potevano essere prese decisioni diverse da quella che è stata presa in queste varie amministrazioni. Con mio grande rammarico perché si parla tanto di appezzamenti di terreni che potrebbero essere lasciati all'agricoltura e invece mettiamo cemento su cemento. E questo purtroppo è una cosa che capita spesso a Cremona e non solo. Al di là della tipologia di abitazioni prevista, da villette singole ma anche abbinate, lascia perplessi la modalità di creare introiti. Il comune vuole rimpinguare le casse comunali lottizzando più non posso questi terreni. Ci sarebbero altri metodi per avere fondi per poi costruire qualcos'altro o comunque appunto ristrutturare o mettere a norma altri palazzi che potrebbero essere appunto poi affittati a chi ne ha bisogno.